sei un po sudato manuel il mototrainer mi ha messo a dura prova giro lanciato manuel pogiali mototrainer qui a milano da moto splash anche se fuori piove i veri campioni si allenano in questo momento con il mototrainer manuel guida un rs 250 nel circuito del mugello tutta casco guante stivale per replicare le vere sensazioni di guida manuel è il primo pilota al mondo in questo momento che sta provando il nuovo sistema di allenamento con il game quindi è sicuramente un grande sforzo fisico ma anche un grande divertimento presto disponibile per tutti in questo momento vediamo l'intertempo in vantaggio quindi anche voi con la vostra moto potete guidare in tutti i circuiti del mondo percorrenza guardate il gas uscita di curva e poi metto insieme alla biondetti 1 biondetti 2 giornata bella potente percorrenza sei tutto bello vestito quindi questo è il tuo primo riding test ufficiale col mototrainer con l'abbigliamento che ci dici bella esperienza davvero molto molto intuitiva molto simile alla realtà devo dire che si avvicina davvero tanto alla realtà e non ho mai provato niente di del genere in sostanza devo migliorare devo migliorare devo prendere mano alla moto devo riuscire a gestire meglio i comandi e soprattutto lavorare ancora meglio sulle gambe che in moto sappiamo quanto è importante e qui lo è tanto ma lo è ancora di più paradossalmente perché non abbiamo l'inerza della velocità e quindi tutto è un po' fisico ed è per questo che sono abbastanza sudati guarda veramente veramente impegnativo non si ha l'idea finché non si trova non si ha l'idea ma è una volentata di gambe? eh? è una volentata di gambe? è una volentata di gambe? è una volentata di gambe anche se adesso mi stavo viguando soprattutto nei campi in direzione attiravano adesso col gas però però bene questo è più simile è più simile permette meno è più facile fare errore sei un po' sudato Manuel? è un po' sudato il mototrainer mi ha messo a dura prova però mi sono divertito penso di aver fatto il miglior best quindi il record sì e quindi siamo in attesa di sfidanti quindi il tuo best abbiamo fatto? 2-0-0-4 ancora c'è della strada eh c'è della strada possiamo migliorare però devo dire che il mototrainer mette dura prova è fisicamente veramente veramente impegnativo e aspetto sfidanti a questo punto quindi lanci la sfida lancio la sfida è chiaro la sfida è aperta ok